Matteo Ciprietti si chiude una stagione 2018 con qualche soddisfazione, la Pirelli Cup e con un po' di rammarico per l'inizio della stagione che magari ti avrebbe potuto, se fatta meglio, con un po' più di fortuna ti avrebbe potuto portare ancora più in alto. Quest'anno ho vinto il trofeo Pirelli Cup, un campionato molto importante, una vetrina importante per essere un campionato nazionale. Ho vinto tre gare su sei, quindi diciamo che è stato quasi dominato questo campionato, due pole position, siamo andati molto forti, è stata una bella soddisfazione. Infatti vorrei ringraziare tutto il team RRM Racing che sono stati bravissimi, tutta la mia famiglia, gli sponsor e gli amici che mi sostengono. Per quanto riguarda il CIV, il campionato italiano velocità invece, lì abbiamo avuto un inizio di stagione un po' difficile perché si è iniziato prima, abbiamo avuto qualche problemino con la moto e non siamo riusciti a partire subito al meglio. La seconda parte di stagione invece è stata molto bella, sono stato sempre nelle posizioni che contano, primi cinque, primi sei, quindi lì siamo andati molto forti a fine campionato purtroppo perché ormai era terminato. Però è di buon auspicio per il prossimo anno. La stagione motoristica va in archivio, sia quella dei grandi che la vostra, ma non per te perché tra pochi giorni sarà impegnato sul circuito dove si corre l'ultimo Gran Premio di stagione con una moto nuova. La prossima settimana sarò a Valencia, farò una wild card nel campionato mondialito, si chiama CEV, con la moto 2, con un team spagnolo, quindi vediamo se è venuta questa cosa come una sorpresa per me, perché non lo sapevamo, quindi sono molto contento, è un'occasione importante dove dobbiamo fare bene, soprattutto anche divertirci così il risultato arriva più facilmente. È un'emozione grandissima perché è come se fosse un mondiale, quindi ci sono tutte le reti televisive, tutti i media, è una cosa mondiale, quindi molto bello e veramente emozionante. Ecco, le prospettive quindi per la stagione 19 di che tipo saranno? Ma visto come è andata l'ultima parte di campionato, io vedo un 2019 positivo, adesso ancora non sappiamo cosa faremo, quale campionato, se continuiamo con la Supersport, se passiamo di là, comunque vada, vediamo sempre di dare il massimo, andare forte. Ecco, ti posso chiedere qual è il modello a cui si ispira Matteo Ciprietti? Ma il modello, diciamo che tutti direbbero Valentino Rossi, anche io lo dico perché è il più forte di tutti, non si discute.